La mia stanza è dove dormiva il giovane Benito Mussolini, cioè la stanza del sindaco. Li contattano, dobbiamo proporre una cosa, c'è una ragazza, questo ragazzo, e poi uno con dei capelli lunghissimi che non parlava. Allora cominciano a dire, ma lei lo sa che qui dentro c'è una presenza inquietante? Questo qua che non ha mai parlato, non si alza e fa, è il tavolo di Mussolini? Sì, lo posso toccare? Prego, si accorga. Arriva, mette le mani e fa, lo sento. Volevano dei soldi per fare il documentario sui fantasmi, perché il fantasma come attrattore turistico, sentite? Ho già centomila persone che venivano per dato il nuovo bisogno dei vostri turisti qua. Oltre ai fascisti ci mettiamo anche Ghostbusters.